Buongiorno a tutti. Dalla Sala delle Colonne, Roberto Cicutto, Presidente della Biennale e la curatrice della 59esima mostra d'arte della Biennale di Venezia Cecilia Alemani, illustreranno questo programma atteso per due anni, questa grande manifestazione, che arriva dopo essere riusciti sia nel 20 che nel 21 a fare quasi tutto, tranne il rinvio di un anno della mostra di architettura che porta anche arte a slittare di un anno. Ringrazio tutti i presenti in sala, chi si è collegato. Voglio segnalare la presenza di altri membri della famiglia della Biennale, che sono la direttrice del settore musica Lucia Ronchetti, la nuova curatrice della prossima mostra internazionale di architettura, Leslie Locco, Gianni Forte, in rappresentanza del marchio Ricci Forte, che sono i direttori della sezione teatro. Sono tutti qui perché dopo la conferenza stampa ci riuniremo per continuare quel dialogo fra le arti, ci raggiungeranno anche il direttore della danza Wayne McGregor e il direttore del cinema Alberto Barbera, perché la Biennale vuole continuare, come è iniziato con le muse inquiete cui dobbiamo a Cecilia, il coordinamento, la prima e unica mostra finora curata da tutti e sei direttori della Biennale in carica, per continuare questo dialogo che deve sempre di più integrare e far sentire che la Biennale è la casa di tutte le arti. Dopo l'intervento di Cecilia ci raggiungerà Carlo Giordanetti di Swatch, partner di Biennale Arte. Vi do alcune notizie, per non rubare tempo alla presentazione di Cecilia, la mostra inaugurerà il 23 aprile e durerà fino al 27 novembre. Abbiamo stabilito già l'anno scorso, in una situazione forse più difficile, la data di inaugurazione della mostra di architettura. Lo facciamo anche quest'anno, consapevoli che è possibile nel rispetto della normativa anti-covid, seguendo la situazione nella sua evoluzione. Abbiamo acquisito in questi due anni un'esperienza, ahimè, straordinaria, nel riuscire a realizzare in presenza degli eventi con migliaia, se non decine, e nel caso di architettura centinaia di migliaia di visitatori. Quest'anno seguiremo attentamente e metteremo in atto tutte quelle procedure, quei controlli, che consentiranno a chi lavora per la mostra, dagli allestimenti fino ai disallestimenti, agli artisti che verranno e ai visitatori, di poterla vedere in sicurezza. Ci sarà un aspetto in più, che è il rispetto e l'attenzione al raggiungimento di obiettivi sulla neutralità carbonica. Abbiamo iniziato con la mostra di cinema, abbiamo continuato con la Biennale dell'architettura, abbiamo raccolto tutti i dati che ci possono consentire, naturalmente con la collaborazione di professionisti del settore, di monitorare le emissioni che i nostri eventi producono. Non riusciremo ovviamente a mettere in atto tutte quelle misure concrete che possano ridurre queste emissioni, ma abbiamo attivato delle compensazioni economiche finanziando delle iniziative che già sono attive e si sviluppano nel mondo per lo scopo della riduzione delle emissioni. Tutto questo lavoro ci porterà, speriamo, nell'arco del 2022, ad arrivare a dei risultati importanti. Il primo è che ci siamo già mossi, abbiamo già realizzato il fatto che tutta l'energia utilizzata dalla Biennale in tutte le sue manifestazioni sia un'energia di fonti green. Arriviamo a un'ultima cosa riguardo alla neutralità carbonica. noi forniremo a tutti coloro che partecipano, lavoratori, visitatori e artisti, dei protocolli di comportamento. Ovviamente non saranno delle imposizioni, ma dei suggerimenti a cui speriamo le persone si atterranno perché saranno dei comportamenti che ci aiuteranno a raggiungere questo scopo. Dopo due anni, uno straordinario viaggio fatto per lo più con mezzi virtuali, Cecilia arriva a Venezia con una mostra monstro, nel senso che è una mostra straordinariamente ricca di proposte e che ha, se posso anticipare Cecilia, una formula che a me piace tantissimo. Le sezioni, i settori, gli argomenti in cui la mostra sarà divisa e che ascolterrete le parole di Cecilia raccolgono al loro interno la fonte di ispirazione di artisti che hanno preceduto quelli che hanno realizzato o portato le loro opere nella mostra di quest'anno in una continuità, che a noi di Biennale piace molto, con i loro predecessori. Quindi avremo la possibilità di scoprire in maniera proprio diretta le fonti di ispirazione. E ti ringrazio moltissimo perché penso che questo sia uno degli aspetti a cui teniamo di più per tutte le arti della Biennale. Ma Cecilia ha fatto un'altra cosa straordinaria, ha realizzato un sogno, un obiettivo che io avevo da quando sono arrivato in questo posto meraviglioso, di dotare anche arte di un'attività di college. Molti di voi sanno che per il cinema, la danza, il teatro, la musica, l'attività di college che dà la possibilità degli artisti, che sono già degli artisti ma non ancora all'apice della loro carriera, di misurarsi con prima di tutto i curatori che sono responsabili anche di questa attività e dei tutor che li accompagnano in un percorso al termine del quale alcuni di loro vedono rappresentate sui palcoscenici o negli spazi espositivi della Biennale le loro opere. Dopo questo lungo lavoro e una selezione durissima, dopo tantissime persone che avevano partecipato alla call che li invitava a descriversi, quattro di questi artisti e artisti vedranno le loro opere nella mostra internazionale, ovviamente fuori concorso, ma non in un settore loro dedicato, ma all'interno del percorso che la mostra è così come è stata disegnata da Cecilia. Abbiamo anche delle nuove partecipazioni nazionali, cinque paesi sono presenti per la prima volta alla Biennale Arte, la Repubblica del Camerun, la Namibia, il Nepal, il Sultanato dell'Oman e l'Uganda. Le Repubbliche del Kazakistan, la Repubblica del Kirzikistan e dell'Uzbekistan, che prima erano raggruppate in un unico padiglione, questa volta si presentano con i loro propri padiglioni. Naturalmente ci sarà il Padiglione Italia, alle tese delle Vergini in Arsenale, che è sostenuto e promosso dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e sarà a cura di Eugenio Viola e la cui conferenza stampa sarà tenuta nei prossimi giorni, credo, dalla sede del Ministero della Cultura. Io ho finito, naturalmente voglio ringraziare chi ci ha sempre accompagnato, tutti gli sponsor che hanno accompagnato le precedenti edizioni della mostra d'arte, che non ci hanno abbandonato nemmeno nel periodo più difficile della pandemia. Sto cercando per non dimenticare i nomi. Naturalmente ho già citato il nostro partner Swatch, di cui poi ascolterete le parole, da parte di Carlo Giordanetti. Non li trovo, li nomino dopo e le ho la parola a Cecilia alle mani. Grazie Presidente Cicutto per la gentile introduzione, grazie a tutti voi di essere qui in sala, tutti i giornalisti e tutti i colleghi delle istituzioni veneziane. Sono molto felice di essere qui con voi in presenza a Venezia, a parlarvi della prossima Biennale Arte che aprirà soltanto fra undici settimane. E sono anche emozionata di essere qui perché è la prima conferenza che facciamo di persona. Vorrei ovviamente ringraziare il Presidente Cicutto perché abbiamo lavorato insieme per due anni in grande armonia e serenità, anche se ci siamo visti soprattutto, come dice il Presidente, nell'oblò del computer e dello schermo. Quindi sono molto lieta di essere accanto a lei. Vorrei anche ringraziare il Presidente Paolo Baratta che mi ha nominato due anni fa e che non è qui con noi oggi ma spero sia connesso online e la cui presenza e spirito è sempre qui con noi in Biennale. Come sapete la Biennale è stata forzata a posticipare prima l'edizione di architettura e poi quella di arte, un fatto che non succedeva dalla Seconda Guerra Mondiale e ci ricorda che stiamo ancora vivendo in un momento storico straordinario. Per il pubblico che ci segue da casa stiamo parlando dalla bellissima Sala delle Colonne di Kajusenian che è mezza piena e sembra anche quasi un miracolo essere qui di persona e per questo ci tengo a ringraziare tutti gli artisti e le artiste, tutti i supporters e tutto il team della Biennale, il team curatoriale, perché questa parvenza di normalità, lo sappiamo tutti, è raggiunta con sforzi incredibili ed enormi, lavorando in condizioni estremamente complesse in una congiuntura unica di questo momento storico. Oggi condividerò con voi molti dettagli della prossima mostra, vi mostrerò tantissime immagini, vi racconterò della struttura espositiva della mostra, degli artisti, delle artiste, delle loro opere, tanti progetti speciali e anche del catalogo. È soltanto comunque una frazione di quello che vedrete, ci saranno tantissime sorprese poi ad aprile e tante immagini che vi farò vedere saranno magari di opere precedenti perché moltissimi artisti stanno lavorando a nuove produzioni. La mostra, come sapete, si intitola Il latte dei sogni o The milk of dreams, è un titolo preso prestito da un libro per bambini di Leonora Carrington, un'artista vicino ai cerchi surrealisti che dall'Inghilterra scappa durante la Seconda Guerra Mondiale in Messico e dove vivrà per tutto il resto della sua vita negli anni 40 e negli anni 50 quando ha due bambini inizia a disegnare storie fantastiche di creature ibride direttamente sui muri della propria casa per poi raccoglierle in un piccolo libretto, un tacquino di cui vedete una pagina sulla destra di questa diapositiva. Dopo qualche anno queste storie sono state raccolte in un piccolo libricino che si chiama proprio Il latte dei sogni o The milk of dreams. Questo libro racconta di storie fantastiche, di essere ibridi e mutanti che cambiano dall'umano al naturale, al meccanico, immaginando un mondo in cui tutti possono trasformarsi, cambiare e divenire altro. Ho voluto pertanto scegliere le figure della trasformazione della Carrington e la Carrington stessa come compagni di viaggio, di un viaggio che attraversa le metamorfosi dei corpi e le definizioni di umano. E come potete immaginare la genesi di questa mostra è stata alquanto unica. Sono stata nominata a gennaio del 2020 e praticamente tutta la fase di ricerca, di studio e di apprendimento ho dovuto farla praticamente dal mio stanzino nel mio appartamento di New York perché non ho potuto praticamente viaggiare mai. Ma ho avuto comunque l'occasione di conoscere centinaia e centinaia di artisti e artiste, purtroppo soltanto tramite Zoom. E se da un lato ovviamente non essere nello studio degli artisti è triste perché non si possono vedere le opere dal vivo, non si può apprezzare tutti i sensi attivati da uno studio visi, dall'altro in un certo senso ho avuto moltissime conversazioni quasi intimistiche e allo stesso tempo confessionali. Sono sicura che anche a molti di voi capita di passare ore e ore su questo strano mezzo di comunicazione parlando con perfetti sconosciuti per ore e condividendo questo strano senso di intimità da fine del mondo che ha un po' tinto l'esperienza di questa mostra. Da questi dialoghi con gli artisti e gli artisti sono nate e si sono imposte con insistenza tantissime domande, domande che sono sicuramente domande che sono anche nate dalla situazione storica che stiamo vivendo e anche dal fatto di aver vissuto questa strana pausa, anche una pausa forse creativa, uno strano iato e che ho cercato di rassumere in queste domande che vedete sullo schermo come sta cambiando la definizione di umano, quali sono le differenze che separano il vegetale dall'animale, l'umano dal non umano, quali sono le nostre responsabilità nei confronti dei nostri simili, di altre forme di vita e del pianeta che abitiamo e come sarebbe la vita senza di noi. Questi sono alcuni degli interrogativi che agitano e animano la mostra Il Latte di Sogni e che sono proprio nati da questa conversazione con gli artisti. Ho cercato poi di riassumere o di stillare queste questioni, ovviamente grandi questioni anche esistenziali, in tre tematiche che non sono in nessun modo sezioni o parte della mostra ma che si intrecciano in modo fluido e armonico nel percorso della mostra e sono la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, la relazione tra gli individui e le tecnologie e la connessione tra i corpi e la terra. O come dice Rosi Braidotti che è una filosofa italiana importantissima per la mostra del pensiero bossumano, la fine della centralità dell'uomo, il farsi macchina e il farsi terra. Per quanto riguarda il primo tema, la mostra affonda le proprie radici nel pensiero e nella filosofia postumana. Molte artisti e artisti contemporanei stanno immaginando proprio una condizione postumana, mettendo in discussione la figura universale e prettamente occidentale dell'essere umano, in particolare del soggetto bianco occidentale come misura di tutte le cose e misura del mondo. Invece a questo modello illuminista e rinascimentale contrappongono alleanze diverse, corpi fantastici e esseri permeabili. Anche per questo la mostra include una grande maggioranza di artisti e donne e di individui non binari, una scelta che riflette un panorama internazionale di grandissimo fermento e effervescenza creativa di artisti e artiste che stanno mettendo in crisi la figura dell'uomo al centro del mondo. La seconda tematica riguarda la relazione tra l'umano della tecnologia, una relazione ovviamente molto complessa che se prima del covid forse vivevamo come un grande ottimismo tecnologico, un ottimismo che da un lato in cui la tecnologia ci mostrava come potesse perfezionare e migliorare il nostro corpo fino a quasi farlo diventare eterno o immortale e dall'altro la paura di una presa di controllo completa della macchina. Ecco questo rapporto complicato e polarizzato con la tecnologia è stato quasi ribaltato o esacerbato durante la pandemia del covid in cui ci siamo accorti in maniera ovviamente drammatica di come i nostri corpi in realtà siano fragili e estremamente mortali anche davanti a una forza invisibile e proprio nel momento di più grande criticità il rapporto fisico con i nostri cari, con le nostre famiglie, con i nostri amici è diventato impossibile ed è stato semplicemente mediato dallo schermo e dalle varie devices che ci portiamo in tasca. Quindi la tecnologia da un lato ci ha reso più vicini ma ci ha anche separato. Infine i legami che intrecciano i corpi e la terra sempre continuando un'idea del postumano tantissimi artisti stanno proprio immaginando anche un futuro e un mondo in cui dichiarano la fine dell'antropocentrismo celebrando una nuova comunione tra gli esseri, una comunione tra gli esseri, il pianeta e altre forme di vita in un rapporto che non sia gerarchico o estrattivo o esplodativo ma un rapporto di armonia, di simbiosi con altre specie, con altre forme di vita. Altri artisti inoltre reagiscono anche alla dissoluzione delle grandi narrative, delle grandi narrazioni proponendo invece saperi locali e nuove politiche identitarie. Prima di parlare delle opere vorrei parlare un attimo di statistiche perché so che piacciono sempre. Il latte dei sogni include 213 artiste e artisti, vengono da 58 nazioni, è una mostra internazionale come negli ultimi anni con un grandissimo numero di nazioni, questo è stato uno sforzo che ho fatto anche da remoto e non potendo viaggiare ma era senz'altro importante per i contenuti della mostra di includere anche artisti che vengono da regioni o da nazioni che normalmente non sono incluse in mostra. Oltre 180 artisti e artisti non hanno mai partecipato nella mostra d'arte, nell'esposizione internazionale d'arte, ci saranno circa 80 nuove produzioni, sono anche felice di includere il lavoro di 26 artisti italiani e ad oggi la mostra include 1433 opere e oggetti e mi fermo un attimo a ribadire il mio ringraziamento a tutto il team della Biennale perché sono mesi e mesi e mesi che mandiamo formule di prestito e ancora non abbiamo finito ma finiremo. Il latte dei sogni si articola nelle sedi classiche della Biennale di Venezia, il padiglione centrale che vedete nello schermo e il complesso dell'arsenale di cui occuperemo le corderie, le artiglierie, tanti spazi esterni fino al Giardino delle Vergini. Come menzionava il Presidente la mostra alterna opere e produzioni contemporanee a piccole mostre tematiche che ho chiamato capsule o capsule del tempo che raggruppano opere di artisti e artisti in particolar modo del novecento con qualche eccezione che sono sui temi della mostra quindi affrontano anche in un periodo completamente diverso i temi della mostra. Queste mostre hanno diverse finalità in primis di interrogare la centralità di alcune storie con la S maiuscola che si sono imposte nella storia dell'arte, nell'arte contemporanea e raccontare anche storie che molti hanno considerato minori e poi mi interessava molto creare dei rimandi tra le opere storiche e quelle contemporanee che saranno allestite tutti attorno per creare proprio delle diverse temporalità in mostra. Per questo la mostra è sicuramente una mostra transtorica che mette in dialogo il contemporaneo e il passato anche a distanza di tante generazioni includendo anche tante controstorie e storie di esclusione. L'allestimento di queste capsule e anche del tutto il resto della mostra è stato fatto in collaborazione con il duo di designer italiani Forma Fantasma, in particolare per le capsule hanno creato delle atmosfere e degli allestimenti molto speciali e molto diversi da tutto quello che vedrete in mostra. Sarà proprio come entrare in un'altra dimensione temporale. La mostra inizia al padiglione centrale e inizia proprio attorno alla prima capsula storica che è intitolata La culla della strega da un'opera di Maya Deren e in questa presentazione vedrete le opere di una trentina di artisti, danzatrici, scrittrici e figure culturali, questo è un rendering di quello che vedrete, che adottano la metamorfosi, l'ambiguità e la frammentazione del corpo proprio per contrastare l'idea dell'uomo unitario rinascimentale. In opposizione celebrano un dominio del meraviglioso e del fantastico superando tutti quei dualismi tra mente e corpo, umano e non umano, femminile e maschile che pervadevano proprio il pensiero rinascimentale in favore di un ibridismo e una realtà, relazionalità e individualità fluttuanti. Sono storie di corpi disubbidienti che si ribellano alle visioni e alle ripresentazioni classiche. Queste artiste sono connesse o vicino ai grandi movimenti di avanguardia del primo novecento, il surrealismo internazionale, il futurismo, ma anche il Bauhaus, l'Harlem Renaissance e la Negritude. Queste capsule conteranno anche tantissimi prestiti importantissimi museali di opere, per esempio, mai viste in Italia o in Europa, come questo bellissimo quadro di Remedio Svaro, un'artista importantissima, amica di Eleonora Carrington, con cui ha condiviso molte esperienze in Messico, ma anche opere della stessa Carrington, come questo quadro che si chiama Portrait of Madame Dupin, che rappresenta questa donna il cui volto diventa una farfalla. Ci sono anche altre artiste che si divertono un po' a sovvertire i cliché con cui la donna è stata rappresentata nel corso della storia dell'arte, come per esempio Leonor Fini, che inverte il ruolo della musa stesa a letto ponendoci invece un giovane ragazzo, oppure Gertrude Arndt, una fotografa che negli anni 30 attraverso maschere e trucco si è divertita a impersonificare diverse tipologie di donna. Ci sono anche altre artiste che invece adottano la fisica amputazione o frammentazione del corpo, come in questo quadro straordinario dell'artista scozzese Itel Colhon, un quadro che viene dal Museo di Israele, dal fondo di Arturo Schwartz, che rappresenta tre corpi, uno femminile, uno maschile e uno intersex. O la nostra Carol Rama, che nella serie appassionata, proprio rappresenta corpi senza arti stesi a letto. Un altro gruppo di artisti guarda o recupera figure mitologiche o figure tradizionali e archetiche, archetipe, come per esempio quella della sfinge. Questa è un'opera di un artista surrealista che si chiama Jane Graverall, che rappresenta la figura di una sfinge ma resa in chiave contemporanea e quanto mai meccanica e tecnologica, con un corpo quasi robotico. Mentre dall'altra parte dell'oceano un artista come Meta Warwick Fuller, un artista connessa al movimento dell'Arlem Renaissance, ci mostra una donna in piedi come una mummia che si sfascia dalle bende della storia. Sempre dell'Arlem Renaissance siamo molto felici di avere questo quadro di Lois Milo Jones, che recupera invece un altro grande mito, quello della madre Africa, mentre altre artiste ritraggono la comunione e simbiosi con la natura, come in questo quadro di Dorothea Tanning, o in questi bellissimi disegni di Baia Mahedine, un artista algerina che dipinge e disegna queste donne con vestiti sgargianti, quasi principesse, in relazione con animali e natura. Questo è un piccolo preview di quello che vedrete in questa capsula. Ci sono molte più opere, queste capsule sono molto dense, sembra quasi di stare in un salone, sono quasi i cuori pulsanti della mostra. Al di fuori, nelle stanze tradizionali del padiglione, incontrerete invece opere di artiste contemporanee che in un certo senso continuano gli stessi temi che avete visto nelle capsule a distanza di 70, 80, 100 anni e che spero possano creare relazioni, rimandi e rime tra generazioni diverse. In questo momento vedete un'opera di Christina Quarles, un artista di Los Angeles che rappresenta corpi in continua trasformazione che si distorcono, si estendono, quasi escono dai bordi della tela, mentre Andra Arsuta presenterà una serie di sculture di esseri ibridi e quasi fantascientifici in cui combina frammenti del proprio corpo con oggetti trovati. L'artista polacca Aneta Grezykowska, in una serie che si chiama Mama, immortala la propria figlia, mentre gioca con una bambola di silicone fatta a perfetta somiglianza della propria madre, cioè l'artista stessa, invertendo in un certo senso il rapporto di cura tra madre e figlia. Overtaccio è un artista danese che per più di cinque decenni è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico e lì ha creato un mondo fatto di figure immaginarie che miscano culture differenti e che reinventano le categorie del genere e della sessualità sia nella sua arte sia nella propria vita. L'artista Chauvinai Assona ci mostra un mondo in cui esseri umani e creature e animali possono convivere, mentre Birgit Jurgensen, un'artista austriaca, disegna queste strane metamorfosi tra umano e soprattutto crostacei o altri animali marini. Akosua Odomo Ovusu è una regista americana di origine ganese che nei suoi film recupera tradizioni folcloriche del Ghana e in particolare storie di metamorfosi per coniugarle e intrecciarle a eventi contemporanei, mentre l'italiana Sara Enrico presenterà una nuova serie di sculture fatte di cimento in cui questi corpi si annodano e si intrecciano sul pavimento. Chiara Enzo è un'altra artista italiana, un'artista di Venezia, che in una serie di piccolissimi e minuti quadri, che sono più o meno grandi così, sembrano giganti sullo schermo, ma sono dettagli iperrealistici di frammenti di corpo e di epidermidi. Al padiglione incontrerete un'altra capsula del tempo che si chiama Tecnologie dell'incanto e che in un certo senso introduce un nuovo tema, quello proprio della relazione tra il corpo e la tecnologia, riflettendo proprio sull'idea di membrana, di schermo e racchiude un gruppo di artisti italiane degli anni Sessanta che sono vicine o erano vicine all'arte programmata e all'arte cinetica e che attraverso il linguaggio astratto e cibernetico hanno riflettuto sulle relazioni proprio tra l'astrazione e il corpo, usando tecnologie innovative e anticipando molte delle preoccupazioni dell'era digitale. Quindi ci sarà Grazia Varisco, Laura Argrisi, Nanda Vigo, ma anche Marina Pollonio, Luciano e Dada Maino. I rapporti tra il corpo e la tecnologia continuano fuori dalla capsula nella parte più contemporanea della mostra, in cui incontrerete un artista incredibile che si chiama Ulla Wiggen, che è un artista svedese che negli anni Sessanta, proprio negli sessi anni in cui si imponeva l'arte programmata, partecipa a una mostra importantissima che si chiamava Cybernetic Serendipity all'ICA di Londra, una mostra che includeva ingegneri e esperti di computer e delle nuove macchine. Lei era giovanissima e invece mostra dei quadri che sono dei ritratti di macchine o di computer dall'interno, molto spesso fatte su tessuto tipo garza medica. A più di sessant'anni di distanza da quei primissimi quadri Wiggen continua a dipingere, questa volta si volge al corpo umano come una macchina e ritrae queste iridi di amici e conoscenti in modo iperrealistico che sembrano un po' girare lo sguardo dello spettatore. Agnes Dennis è un artista di origine ungherese che vive negli Stati Uniti e che negli anni Sessanta creò queste due grandi opere in cui racconta l'evoluzione del corpo, l'evoluzione dell'uomo da un lato in quella fascia blu e quella della tecnica in quello marrone. Mentre le astrazioni pixelate dell'artista Lilian Schwarz sono i primi esperimenti di video realizzati con il computer. Lenora De Barros presenterà una serie di fotografie in cui vediamo estremamente da vicino un volto femminile che interagisce con macchine, con macchine da scrivere piuttosto che con tastiere da computer. Il linguaggio e il corpo sono un altro elemento molto importante nella mostra, la terza capsula storica del padiglione si chiama Corpo Orbita e raccoglie artisti e scrittrici che nel XIX e XX secolo utilizzano forme espanse di linguaggio come strumenti di emancipazione. È importante ricordare che la mostra non soltanto include artisti visivi, bensì anche intellettuali, scrittori e scrittrici e persone che con i loro racconti di vita hanno immaginato nuove possibilità dell'essere. Questa mostra è in parte anche ispirata a una mostra diventata leggendaria della Biennale di Venezia che si chiamava materializzazione del linguaggio e che avvenne nel 1978 ai magazzini del sale curata dall'artista Mirella Bentivoglio e che radunava 80 artiste donne che lavoravano con la poesia visiva e la poesia concreta. Alcune di queste artiste sono anche in mostra in questa piccola capsula al padiglione come Tommaso Binga, la stessa Mirella Bentivoglio, Ilse Garnier e Mary Ellen Salt. Ecco queste artiste nelle loro opere di poesia concreta cercano di decostruire la linearità del linguaggio spezzando proprio le frasi tradizionali e occupando la pagina in modo più fisico e materiale. Al di là di queste artiste ci saranno anche un gruppo di medium come Usapia Palladino o Linda Gazzera cioè artiste che in realtà non artiste ma persone che hanno usato il proprio corpo per comunicare con altre dimensioni. Qui vedete delle fotografie di Linda Gazzera e delle sue sedute spiritiche oppure Usapia Palladino ancora quindi immaginando un linguaggio non basato sulla textualità o sul verbo ma proprio sul corpo. Allo stesso modo un artista spagnola che si chiama Giusefa Torra affermava che i suoi disegni fossero guidati da entità spirituali che muovevano la sua mano e la facevano scrivere. Ci sarà infine un gruppo di artiste che ha basato il proprio lavoro sulla scrittura automatica come per esempio Unica Zurn o gli automatismi anche di un artista come Minnie Evans che descrive allucinazioni, visioni anche mistiche in queste bellissime composizioni floreali. Al di fuori di questa capsula lo spettatore potrà incontrare opere che in un certo senso continuano un'indagine sul linguaggio anche se in modi diversi anche alle volte attuali e politici come nell'opera di Sable Smith o nelle astrazioni di Branwyn Katz o in una serie di nuovi disegni dell'artista americana Amy Silman che usa sia l'astrazione sia la figurazione per creare questo quasi un alfabeto in cui si riconoscono anche frammenti di corpo. I quadri tipografici di Jacqueline Humphries saranno messi in relazione con i grafemi di Carla Cardi e con il linguaggio macchina che informa i disegni fatti al computer di Vera Molnar. In contrasto con questi scenari ipertecnologici il padiglione contiene anche opere che ritraggono nuove simbiosi e creature diverse. Una stanza sarà dedicata all'artista portoghese Paola Rego, un'artista importantissima che solo recentemente ha ricevuto l'attenzione necessaria, un'artista che ha appena avuto una mostra al Tate Britain e che sono decenni che dedica il proprio lavoro a cause sociali e politiche come ovviamente i diritti delle donne, la lotta per l'aborto soprattutto in Portogallo e ha voluto anche reinterpretare tante delle favole, delle storie, delle leggende tradizionali come per esempio la metamorfosi di Kafka che vedete qui rappresentata. Queste creature simbiotiche si vedono anche nei quadri degli anni 70 di un'artista del Cile che si chiama Cecilia Vicugna che oltre a questi quadri realizzerà anche una grande installazione site specific che sarà dedicata al fragile ecosistema della laguna veneziana. Cecilia sarà messa in dialogo con questi quadri cellulari e organici di un'artista che si chiama Americo Keb Berano ma anche con questi idoli soffici di un'artista indiana che si chiama Miralini Mukherj. Nel Giardino Scarpa ci saranno le opere di Simone Fattal, artista siriana che per decenni ha lavorato proprio sulla figura umana, astraendola fino a creare queste figure che si muovono tra astrazione e figurazione in bronzo e in ceramica e ci sarà anche una grande installazione performativa di un'artista che si chiama Alexandra Pirici, un'artista rumena che presenterà una grande coreografia che sarà sempre, speriamo, sarà sempre accessibile a tutti quanti che grazie a 6 performance parlerà delle interazioni simbiotiche e parassitarie tra individui. All'arsenale e alle corderie l'atmosfera cambia completamente e include artisti e artisti che nel proprio lavoro guardano al rapporto tra individui e terra. La mostra inizia con una grande presentazione dell'artista cubana Velkis Aion, un'artista importantissima che già mostrò alla Biennale di Venezia nel 1993 e che presenterà una serie di opere su carta realizzate con la tecnica della collografia descrivendo un'immaginaria comunità matriarcale ispirata da tradizioni afro-cubane. Molti altri artisti in mostra recuperano anche la dimensione mitopoietica dell'arte come nelle tele dell'artista eritreo Ficre Ghebreyesus o nelle visioni oniriche dell'artista Porzia Zavahera. All'inizio dell'arsenale ci sarà anche una grande installazione di un artista argentino che si chiama Gabriel Ciaile che crea sculture monumentali fatte di argilla cruda che si ergono come idoli di una strana nuova civiltà mesoamericana. Il rapporto tra l'uomo e la natura e la terra è visualizzato e celebrato da tantissimi artisti in mostra tra cui la lituana Egle Butitive che filma un gruppo di giovani persi o sperduti in una foresta di licheni della Lituania oppure un altro gruppo di giovani dell'artista Zengbo che filma individui mentre hanno relazioni sensuali e alle volte anche sessuali con la natura. Un simile senso di incanto miraviglioso ritorna in un gruppo di artisti che registrano la fine delle grandi narrazioni riscoprendo e celebrando narrazioni più locali. Britta Marakat Labba è un artista Sami che crea questi incredibili arazzi fatti con minuziosi punti di cucito dove rappresenta scene di vita della popolazione Sami del nord della Svezia mentre le allucinazioni che mischiano natura e visioni oniriche dell'artista Jaider e Sbel ci ricordano come proprio l'artista credeva firmamente che l'arte possa essere una forza nelle lotte anche per il riconoscimento dei diritti indigeni. A questo punto dell'arsenale ci sarà la prima capsula storica dell'arsenale, ce ne saranno due all'arsenale. La prima si intitola una foglia, una zucca, un guscio, una rete, una borsa, una tracolla, una bisaccia, una bottiglia, una pentola, una scatola, un contenitore. Questo è soltanto una citazione da un libro che è stato molto importante per me, un libro dell'artista, dell'autrice di fantascienza Ursula Le Guin che rilegge la storia della nascita della civiltà umana e della tecnologia invertendo un po' la storia dell'origine, non più individuando la prima invenzione tecnologica nell'arma o nell'ascia o nella lancia che il cacciatore usava per uscire dalla caverna e andare a caccia di mammut, bensì in tutti questi oggetti o due mani giunte, una foglia che le donne usavano invece per andare a raccogliere semi, granaglie e frutti. Quindi questa presentazione, che abbiamo anche chiamato la presentazione della vessel, riunisce un'iconologia di recipienti di varie forme e dei loro ligami simbolici, spirituali e metaforici con la natura. Quindi vedrete le sculture uterine dell'artista americana giapponese Ruth Asawa, create con intessendo fil di ferro in cui il dentro e il fuori sono una membrana porosa, o invece le sculture completamente piene di Itoshiko Takaezu, gli strani esseri da questi carapaci colorati dell'artista surrealista Bridget Tichenor in contrapposizione con le forme ovaloide di un'artista slovacca che si chiama Maria Bartuzzova. In mostra ci saranno anche artifatti e oggetti come per esempio questi modelli anatomici che Aletta Jacobs, che era la prima donna a essersi laureata all'università in Olanda, aveva usato nelle proprie lezioni di anatomia, in particolare di anatomia per il corpo femminile raccontando proprio le evoluzioni del corpo. Attorno a queste opere ci saranno opere di artisti e artiste contemporanee come per esempio questo quadro di Franz Zeffirin, un quadro di un artista di Haiti che si chiama The Slave Ship Brooks, che dipinge proprio una forma di una vessel, una nave che era responsabile per aver portato e rapito dalle coste dell'Africa centinaia e centinaia di abitanti per portarli sulla costa americana e qui inverte un po' il ruolo dei colonizzatori, rappresentandoli come strane creature animalesche sulla cima del ponte. Ci saranno le sculture antropomorfe di Magdalene Odundo, questi bellissimi vasi sensuali, che saranno in relazione con le forme concave di un artista thailandese che si chiama Pinare Sampitak, ma anche le immagini in movimento di un artista uzbeka che si chiama Saudat Ismailova e che ci racconta di queste strane celle sotterranee dove già prima della pandemia si poteva fare non soltanto giorni di meditazione, ma anche di quarantena. Roberto Gil de Montes è un artista messicano che risponde in un certo senso al classico quadro di Botticelli, La nascita di Venere, sostituendo l'immagine della Dea con un giovane pescatore sdraiato, mentre l'artista messicano Filipe Baezza parla di corpi queer, corpi migranti che si fondono con la natura producendo questa intricata rete di rampicanti. Ci sarà anche una grandissima installazione dell'artista colombiana Delsi Morelos, sarà un'opera fatta di terra come un labirinto in cui potrete passare, mentre molti altri artisti si interessano anche e combinano posizioni politiche e di ricerca sociale con progetti che rivisitano anche tradizioni locali e personali. Quello che vedete in questo momento sullo schermo sono delle tele dell'artista indiano Prabhakar Pachputhe che realizzerà un nuovo quadro per noi che parla dei disastri ecologici e ambientali dell'industria delle miniere in India, oppure Ali Cherry, un artista libanese che avrà una nuova opera filmica in cui racconta di come si intrecino grandi miti storici con le conseguenze sempre ambientali della costruzione di una liga sul Nilo. Ibrahim El Salai è un'artista del Sudan che vive tanti anni in Inghilterra e che per tanti anni ha disegnato quasi ossessivamente questi ritratti e figure dietro le scatolette dei medicinali proprio riflettendo anche su il proprio rapporto con la medicina e con l'industria farmaceutica. A questo punto ci sarà l'ultima capsula storica che si chiama La seduzione di un cyborg, un titolo preso dall'artista Lynn Ersham-Leason. Anche questa presentazione include opere storiche di artiste che nel corso del novecento hanno immaginato nuove combinazioni tra l'umano e l'artificiale, creando avatar di un futuro post-gender e post-umano. Vedrete in particolare opere legate al movimento del Bauhaus, del Dada ma anche del futurismo e anche opere più recente come per esempio le fotografie di Marianne Brandt in cui l'artista si riflette in queste sfere specchianti oppure Marie Vassiliev, un'artista e fotografa russa che ha giocato proprio con l'identità mutante tramite un grande numero di maschere diverse. Anna Coleman Ladd era un'artista americana che durante la prima guerra mondiale decide di abbandonare la sua professione e di trasferirsi in Francia dove aiuta coloro che avevano avuto un incidente o erano stati feriti in guerra per creare delle protesi facciali che potessero aiutarli a essere reinseriti in società. Alexandra Ekser era una futarista, una costruttivista russa che nel 1924 cura le scenografie e i costumi del primo colossal fantascientifico russo che si chiamava Aelita di circa tre anni in anticipo sul molto più famoso film di Fritz Lang Metropolis ma in cui ci mostra la regina di Marte che si chiamava proprio Aelita con questi costumi dalle sfumature metalliche e meccaniche che si vedono anche nelle piccole miniature scultore dell'artista futurista Regina ma anche nei corpi spezzati e robotici dell'artista Estone Anu Poder. E infine ci sarà una grande presentazione anche di Kiki Koglenik, un artista austriaco spesso connessa con il movimento della pop art che in disegni e quadri rappresenta un io, un self, un io esploso e robotico. A questo punto dell'arsenale la mossa cambia completamente temperatura, diventa artificiale, diventa sintetica, la figura umana tende a sparire, le opere monumentali dell'artista francese Marguerite Humeau accoglieranno gli spettatori quasi come creature criogeniche mentre nell'installazione di Raffaella Vogel sembra proprio che l'animale abbia preso il controllo sull'uomo. Ci saranno anche i fiori post-atomici e radioattivi dell'artista giapponese Tetsumi Kudo e le macchine robotiche dell'artista coreana Mirelie che ricordano quasi un sistema digestivo di una creatura immaginaria. Tishan Shu è un artista americano che in questi quadri, fatti molto spesso con il silicone, ricorda orifizi ma anche immagini prese dalla tecnologia della sorveglianza mentre l'artista coreana Ga Myung Young si diverte a giocare, a riconfigurare questi pezzi di robot che ricordano figure umane. Lee Nersham Leeson è un'artista importantissima della West Coast che per anni ha dedicato opere all'idea del post-umano e in questo nuovo video celebrerà il compleanno del cyborg che era stato inventato nel 1960 e anche Diego Marcon, un artista italiano, ci mostra un mondo in cui i personaggi del video sono coperti da questa strana maschera artificiale. La mostra includerà anche una grande installazione dell'artista americana Barbara Kruger concepita appositamente per gli spazi dell'arsenale che, come immagino sappiate, combina slogan, parole e poesia per quasi celebrarle e criticare un mondo di ipercomunicazione a cui fa contrasto invece, fanno contrasto le sculture silenziose di Robert Grovenor e il giardino entropico di Precious Okoyomon. Quasi finito. Al di fuori dell'arsenale ci saranno tantissime opere e installazioni come Giulia Cenci, Wu Tsang, Virginia Overton, Marianne Vitale e siamo anche felici di continuare la collaborazione per il sesto anno con il Victoria and Albert Museum in quello che si chiama il Padiglione delle Arti Applicate in cui abbiamo invitato l'artista americana di origine catara, Sofia Al Maria a creare un nuovo video che ha esplorato la collezione degli automi del museo e l'artista si è interessata in particolare a questo automa che si chiama la Tigre di Tipu è un automa creato in India nel 1700 che mostra una tigre che sta assalendo un soldato britannico. Siamo anche felici di continuare la collaborazione con Forte Marghera dove mostreremo un nuovo progetto dell'artista italiana Elisa Giardina Papa che racconta di intreccia tradizioni antiche in particolare siciliane, delle donne di fora su scenari, contro scenari post-moderni anche un po' post-apocalittici girati a Gibellina Nuova. Biannale College, ne ha già parlato il Presidente quindi non spenderò troppe parole se non per dirvi che i finalisti sono Simi Kiwe, Bulungu, Ambra Castagnetti Kuzanai, Violet, Vami e Andro Eraze e come ha dato il Presidente per me è stato molto importante considerarli a tutti gli effetti artisti in mostra quindi il loro lavoro sarà sparpagliato nel percorso di mostra. Infine vorrei raccontarvi per un minuto l'identità grafica della mostra che avete visto alle mie spalle e che è stata fatta in collaborazione con uno studio di Londra che si chiama A Practice for Everyday Life questi sono i quattro poster che saranno alternati che vedrete in giro in città e in mostra e abbiamo deciso di soffermarci su dettagli di opere degli artisti in mostra che rappresentano appunto dettagli anatomici dell'occhio un po' riflettendo proprio su questo su questo elemento quasi come se fosse la porta d'ingresso del nostro corpo e quindi da sinistra a destra vedete dettagli di opere di Sicilia Vicugna Felipe Baeza da Tatsuo Ikeda e Belki Saion il catalogo continuerà con questa immagine ovviamente sarà in due volumi il volume per l'esposizione e quello per i paesi e gli eventi collaterali la guida breve avrà le stesse quattro copertine e per concludere voglio raccontarvi brevissimamente del contenuto e del catalogo perché ci saranno tantissimi saggi critici e contenuti accademici ed artistici cosa che confesso essere riuscita a fare semplicemente perché abbiamo avuto molto più tempo rispetto agli anni passati ma è stato importante per me commissionare e arricchire il catalogo non soltanto con tesi sugli artisti in mostra ma anche sui temi della mostra quindi ogni capsula storica sarà introdotta da un saggio storico artistico degli autori e autrici che vedete nello schermo e poi ci saranno tantissimi altri saggi che spero avrete voglia di leggere nel catalogo e includono anche alcuni reprint storici come per esempio un racconto di Eleonora Carrington il saggio che ho nominato prima di Ursula Le Guin che per la prima volta è stato tradotto in italiano e qui mi fermo vi ringrazio passo la parola al presidente tutto qui? ha avuto due anni volevo vedere complimenti veramente ci ha raggiunto Stefano Ricci per completare la direzione del settore teatro e c'è presente anche Claudia Ferrazzi membro del consiglio dell'amministrazione vedo un amico ex curatore Francesco Bonami che ringrazio di essere qui ed altri amici recupero mentre invito a raggiungerci Carlo Giordanetti member of Swatch Management and CEO Swatch R-Peace Hotel con i ringraziamenti agli sponsor ovviamente Swatch partner della manifestazione main sponsor della manifestazione Illy Cafè sponsor Bloomberg Philanthropy Vela Venezia Unica e ringraziamenti a Maram and Clearly Gottlieb Steen and Hamilton LLP ovviamente si ringrazia il Ministero della Cultura le istituzioni del territorio che in vario modo sostengono la Biennale la città di Venezia la regione Lazio la soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna la Marina Militare un ringraziamento va ad honor e agli enti istituzioni internazionali indispensabili per la realizzazione di questa e di altre disposizioni d'arte in particolare ovviamente ringrazio Cecilia Le Mani non posso esimermi da ringraziare tutte le grandi professionalità della Biennale che in questi due anni dal mio arrivo in Biennale non hanno mai detto di no nulla hanno superato difficoltà inaspettate hanno aggiunto al lavoro che già viene svolto per realizzare le mostre e i festival un grande impulso all'attività dell'archivio storico delle arti contemporanee e siamo all'inizio della costruzione del centro internazionale di ricerca sulle arti contemporanee quindi grazie veramente a tutti do la parola a Carlo un amico grazie grazie presidente e complimenti perché è assolutamente affascinante tutto quello che abbiamo ascoltato finora Swatch è ancora quest'anno al fianco della Biennale innanzitutto perché è per noi il modo forse più visibile di raccontare l'impegno che questo marchio ha nei confronti dell'arte degli artisti attraverso tutti i quasi 40 anni di vita nel 2023 avremo 40 anni avremo due presenze come sempre abbiamo dato Swatch Faces 2022 per dare un elemento di continuità con le edizioni precedenti avremo due presenze una all'interno delle sale d'armi in Arsenale dove attraverso l'intervento di opere di cinque artisti racconteremo la nostra residenza per artisti che abbiamo a Shanghai sulle rive del fiume che attraversa Shanghai all'incrocio tra Nanjing Road e il Bund c'è un edificio che ha visto la luce nel 1906 e che nel 2011 Swatch ha trasformato in una residenza per artisti all'interno di questo edificio per fortuna anche durante il momento difficilissimo della pandemia siamo riusciti a mantenere la vita grazie ad artisti che si sono incapponiti per rimanere a lavorare e ad esprimersi i cinque artisti che abbiamo scelto sono in maggioranza in questo caso cinesi per anche una ovvia ragion d'essere di questi due anni che hanno visto pochissimi artisti internazionali arrivare a Shanghai e esprimono linguaggi diversi partiamo da linguaggi più figurativi e arriviamo a linguaggi astratti un artista in particolare che è di origine brasiliana ma che vive in Svizzera realizza un'opera ad hoc facendo una specie di omaggio a Venezia con un dialogo tra un busto di Napoleone e il leone di San Marco realizzato con dei materiali sicuramente inusuali e in grandissima parte materiali di riciclo quindi con un messaggio anche interessante da questo punto di vista invece ai giardini dove la nostra posizione di partner ci consente di essere praticamente al centro di un percorso ideale tra i vari padiglioni abbiamo invitato un artista thailandese Navin Ravashnikul il quale realizzerà un'opera molto legata a Venezia e molto legata all'interazione tra gli umani Navin è stato a Venezia nel mese di dicembre scorso ha sfidato la quarantena e è entrato in comunicazione con tutta una serie di comunità che vivono a Venezia e che sono comunità di migranti che sono a Venezia da diverse generazioni in alcuni casi o che sono comunque di non autoctone e da questa da questa analisi da questa interazione da queste esperienze proprio culturali che lui ha vissuto in queste due settimane realizzerà a questa opera di grandissime dimensioni anche molto tridimensionale che ha chiamato la descrizione del mondo perché semplicemente perché la descrizione del mondo era il titolo originale di quella che noi conosciamo come il milione di Marco Polo e la sua opera è accompagnata da una lettera che lui ha scritto a Marco Polo in cui racconta la sua esperienza di uomo del 2021 in questo caso perché era ancora 2021 facendo una specie di parallelo tra alcuni dei fenomeni culturali che sono ancora esistenti e sono naturalmente in trasformazione da come Marco Polo li aveva descritti o immaginati questi sono i due momenti della presenza di Swatch che saranno poi anche accompagnati a partire dal mese di settembre da un'edizione speciale di un orologio d'artista che ovviamente sarà Navin a realizzare quindi portando un modo diverso di leggere il tempo anche al polso grazie e siamo sempre molto felici e molto fieri di essere qui e noi con voi il mio passato da cinematografare mi ha fatto fare un lapsus freudiano ovviamente ringrazio la Regione Veneto il Presidente anche membro del Consiglio di Amministrazione saluto l'amico Amerigo Restucci che spesso viene delegato a sostituirlo nelle riunioni di consiglio me ne scuso finisco nel dire i prossimi appuntamenti ci saranno ovviamente le attività per il Carnevale di Venezia dal 19 febbraio al 27 ovviamente la Mostra Internazionale d'Arte dal 23 aprile al 27 novembre il Festival del Teatro dal 24 giugno al 3 luglio la danza dal 22 al 31 luglio il cinema dal 31 agosto al 10 settembre la musica dal 14 al 25 settembre sempre sotto l'ombrello dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee dal 18 fino al 5 giugno a Forte Marghera ci sarà anche un'installazione immersiva che chiamiamo Archeus proprio in onore delle attività d'archivio curata da Damiano Micheletto e da Officina ringrazio veramente tutti non avrei potuto festeggiare meglio di così il mio mid term di mandato esattamente a due anni da quando sono arrivato grazie a tutti grazie a tutti